Madonna Sono alta Ah, aiuto Perché la vita da youtuber è così difficile Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Oggi, come avete visto dal titolo Vi farò ascoltare la mia playlist del momento Ma sono sicura che Metà di voi già la conoscono O comunque se li immaginano E come avete visto Il cavalletto non è proprio stabilissimo Non è un cavalletto Ma sono semplicemente due scatoli Messi uno sopra l'altro Perché sono povera E mi posso permettercelo questo E nulla Iniziamo subito Senza perderci Dilungarci in cose inutili Allora L'album di Zan Supreme I miei capelli si ribellano È in assoluto La cosa che sto ascoltando di più In questo periodo Cioè raga Vi piacciono tutte le canzoni Tutte Un po' di meno alcune Però Sono tutte Tutte Bellissime Cioè proprio io Le adoro Il mio amore Per ta supreme Cavalletto con il santo Va via E Non lo so raga Io Ci ha fatto un album Che per me È straordinario Vi faccio sentire alcune canzoni Soprattutto quelle che mi piacciono di più Allora In assoluto Questa Poi C'è questa Che è tipo L'unione dei due I miei cantanti preferiti del momento Cioè ta supreme E Mara Sattei Che se non sbaglio Oppure Ditemi se sto dicendo una minchiata Sono fratelli Marta È la sorella Perché c'è questo capello qui a random È la sorella di ta supreme Non lo so Comunque la canzone è questa Cioè Mi giuro mi piacciono tutte Cioè anche questa Di cosa stiamo parlando Questo video si potrebbe chiamare benissimamente Ta supreme Ti amo Insomma Tutto l'album Una bomba Già è solo 5 minuti di ta supreme Grande Chiara Allora Poi come altre canzoni del momento Abbiamo Questa Che è tipo Bellissima Io la canto In metro Sembro una folle Infatti secondo me la gente mi sta lontana per quello Perché canto a random Tu mi pensavo Che una vita è nel testo E ti penso alle 4 E sono ancora sveglio E' l'ultimo banco E già sognavo Con il suo Un micro fuori E qualcuno sta Allora Allora un'altra canzone Si chiama ancora sveglio Sì Degli Psicologi Dei psicologi Momento Grammatica Non lo so Comunque psicologi E Zef Lo so ma è bellissimo Quindi Un'altra canzone Che sto ascoltando molto E' questa Faccio flex Fanno foto con i flash Non siamo friends No Non ti conosco O comunque andiamo Sei senica del post Avete capito Il genere è molto Yo yo Allora Un'altra Bellissima Per me E' Questa Perché a me Tipo Non nuvissima E' di Mara Satei Eltra Supreme Però è bellissima La prossima canzone Si chiama Cenere Di Nashley Raga io Con i nomi Degli artisti Non vado molto D'accordo Non so se me ne siete accorti Chiama Me Che se la regina Ti sono tu E Per davvero Non come le favore Se vuoi ce lo comprerò Le nuvo Le Sì Scusa Sì Scusa Che Non voglio voltare Queste pagine Finchè ce lo cade Sulle ti Bellissima Un'altra Che è abbastanza vecchia Mi direte Sicuramente Però Questa è colpa Di Tik Tok E' bellissimo Cioè raga Non lo so Mi fa Do piangere Però Quasi Un'altra Direi l'ultima Perché Già il video Dura un botto Tipo 5 minuti Appartengono Solo a Ta Supreme Metà del video E' Ta Supreme Ma Vabbè Pazienza Stupendo Fuori piove Io non mi copro Fiori sì per me Cado giù nel vuoto Sei fuori come me Tu sei fuori come me Bellissimo Vabbè Poi C'è tutto Tutta la canzone Ma in realtà Io ho un sacco di canzoni In questo periodo Cioè Ok queste sono le mie canzoni Del momento 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 Ragazzi sto facendo più Attenzione a sta roba Ci provo a non parlare con la D Ma non vi prometto nulla Ho vissuto 18 anni In un posto Quindi non è che In due mesi Posso cambiare Nulla raga Spero che queste canzoni Mi siano piaciute Se anche a voi Piacete a Supreme Mettete un pollice in su Sono sicura che tra di voi C'è qualcuno A cui piace Tata Supreme Il mio amore Incondizionato Verso di lui Magari inviateli Questo video Supreme Se mai vedrai Questo video Sappi che ti amo Incondizionatamente E le tue canzoni Sono una cosa bellissima Dopo questa dichiarazione D'amore Niente Se il video vi è piaciuto Lasciate un pollice in su Se ancora non siete iscritti Iscrivetevi E noi ci vediamo domani Con un prossimo vlogmas Grazie a tutti